se volete acquistare credito in descrizione trovate fifa 15 coi small e in più inserendo il codice common justice tutto minuscolo avete il 5 per cento di crediti in più buona prima ragazzi qui è giustizio e siamo tornati con questo nuovissimo video che è l'inizio di una nuova serie che spero vi piaccia dal nome pack roulette vi spiego subito in che cosa consiste io andrò a aprire 10 pacchetti di questi qui da 25 mila crediti che di solo fanno schifo ma speriamo bene e ho estratto da random.org cinque numeri a caso da uno a dieci che corrispondono ai pacchetti io devo scartare adesso vi metto sullo schermo gli screen di random.org perché i pacchetti io devo scartare sono il secondo il quarto il quinto l'ottavo e il nono come vedete dalla grafica diciamo la cornice a questo video quindi diciamo non so se avete capito ma è più difficile a dirsi che a farsi il primo pacchetto è da tenere quindi tutto quello che troveremo se vale la pena lo terremo poi il secondo da scartare il terzo da tenere il quarto e il quinto da scartare il sesso e settimo da tenere l'ottavo e il nono da scartare e il decimo da tenere comunque buffon quindi io direi che si potrebbe mandare benissimo alla listata sferimenti flaminina niente niente allora secondo da scartare ti prego non darmi nessuno per favore per favore per favore non darmi nessuno non voglio scartare giocatori forti ti prego check no non ci credo no vabbè check no quanto vale check almeno controlliamo quanto vale prima di scartarlo miseramente no 10.000 crediti porca puttana va bene questo è il gioco scartiamo mamma mia terzo da tenere ora dammi qualcuno dai dammi qualcuno come on come on come on come on questo lo teniamo sargentone non si sa mai e poi scartiamo tutto il resto ora quarto e quinto da scartare quindi due di seguito da scartare mamma mia ti prego non darmi nessuno ti prego non darmi nessuno no vabbè ma che cazzo shurle maledetto no non voglio nemmeno sapere quanto vale via scartiamo subito via no vabbè che palle maledetto quinto anche da scartare ti prego non farmi ancora questo ti prego non darmi nessuno o cutinio ci può stare è defo trasferito defo trasferito fan culo mamma mia ora 6 e 7 da tenere quindi lasciate un like intanto 6 e 7 da tenere come on come on ora dammi qualcuno ora dammi qualcuno un ronaldo un messi un neymars if dai varan varan qualcosina vale ma niente praticamente poco molto poco teniamo questo intanto difensore centrale che ci fa comodo niente ora altro pacchetto dove dobbiamo tenere settimo pacchetto si tiene tutto dai ti prego schippalo dammi qualcuno di forte ti prego no vabbè non ci credo teniamo questo qua perché non ce l'abbiamo e poi il resto scartiamo tutto 8 e 9 da scartare non darmi nessuno ti prego paletta voglio paletta l'unico pacchetto in cui desidero avere paletta paletta ti prego paletta paletta manzupic va bene ci può stare me no vabbè io esco maria pure maurizio della lassio che era buono da tenere no vabbè via scartiamo no cioè se io trovo anche qualcuno in questo nono pacchetto io esco veramente non è possibile non è possibile non è possibile non darmi nessuno no va bene no no non ci credo non ci credo devo scartare rune no non ci voglio non ci voglio credere non ci voglio credere potoschi dell'inter rune no vabbè io esco maria non ci credo non ci posso credere no maledetto maledetto rune di merda perché dovevi uscire adesso non ci penso più via no non ci credo non ci credo ultimo pacchetto da tenere che sicuramente non troveremo nessuno perché abbiamo appena trovato rune mamma mia no no dai ti prego vaffanculo non ci credo non ci oh quanto vali quanto vali cinese buono buono 4000 non ci posso credere ragazzi questo è la fine del video ma abbiamo dovuto scartare rune con questo gioco mamma mia roulette roulette pack roulette vi raccomando lasciate un like se questa serie vi piace insomma modo un po diverso per fare pack opening magari meno noiosi così e niente lo ripeto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non avete ancora fatto commentate con cosa ne pensate di questa serie che secondo me comunque vale la pena di fare ogni tanto io vi ringrazio come sempre la visione ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e porca puttano scartato rune